beh 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 sta a vedere sta a vedere voi quando vincete potete perculare noi quando vinciamo non vi va bene milanini come mai e come mai prima di parlare di quello che è successo l'altra sera che era in diretta lo stavo guardando pure io tra pelle gatti e il grande luca mastrangelo iscrizione al canale lasciate un like commentate attivate la campanella e condividete il video oh pelle gatti io devo capire una cosa io capisco che è stata una battosta esagerata capisco che forse non ve lo meritavate invece si capisco che te sei uno di quelli che sta lì con la lingua fuori a fare così eh poi davanti c'è un culetto ma capisco 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 che ti aspettavi un'annata diversa probabilmente capisco tante cose ma capisco anche che te ti hai capito un cast te capimi pelle gatti perché allora cos'è successo ragazzi è successo che in tv luca mastrangelo ha la sette gold quei programmi lì che ogni tanto guardo c'era lui e Bergin poi c'era pelle gatti e altri in studio e mastrangelo parlando del derby parlando anche di quello che era successo che la società Milan, non aveva fatto i complimenti alla società Inter dello Scudetto, per forza ha detto un tiraculo che mai a me non me ne frega neanche un cazzo dei vostri complimenti cari milanisti ve lo dico proprio chiaro e tondo perché la goduria non guardi più in faccia tu quando stai godendo in quel momento che esplodi, non pensi più a niente quindi io sto godendo come un riccio sono lì e godo, continuo a godere quindi non capisco più niente cosa succede? Succede che Mastrangelo mostra la maglia sfottò che ha fatto chiamate Slata e quel pulcino di Pelle Gatti che poverino Pelle Gatti, dai spazio a noi giovani fateci andare a noi giovani più che questo qua che ormai non ci arriva più, dai cosa ancora con Pelle Gatti che fa tanto, fa tanto poi se gli dici qualcosa se la prende comunque sia Mastrangelo mostra sta maglia e ora chiamate Slata vabbè, una roba del genere e questo qua eh no io mi meraviglio che un ente televisivo faccia entrare un personaggio con una maglia del genere possa vedere far vedere questa maglia ma cosa c'era scritto viva la guerra oppure c'era scritto viva la figa che cosa c'era scritto di così così eclatante che te ti sei scaldato te se ci sono io quella maglia non la metti oh ma chi sei che per far due lire vieni anche su YouTube a sparare minchiate dalla mattina alla sera e ti permetti di dare di dire a un interista se ci sono io qua quella roba lì non la metti oh ma scusa un attimo quando c'era Ibra che faceva dai chiamate 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 te non hai mica fatto un video dove dici eh però Zlatan doveva contenersi non si fanno quelle cose che di qua di su te sotto i baffi eri lì che ridevi come un matto e godevi come un riccio così come facevo io come ho fatto io e adesso tu ti permetti di dire Luca ma strangelo che quella maglia con me se ci sono io in studio tu non la metti ma strangelo che non ho capito perché l'ha tolta perché se ero io dicevo beh allora dico mio sai cosa c'è sapo e porta a casa veda la maglietta tu te la sbatto in faccia la maglietta ma strangelo Luca dovevi gli stigli così te che sei romagnolo come me meraviglio che hai ceduto meraviglio che hai ceduto perché una volta che si parte ignorante si va si finisce ignorante Luca tu non puoi per rispetto tu per legarti ma che rispetto che due anni fa i milanisti ce l'hanno avuto con noi ce l'hanno avuto con Cialanoglu e poi è un'altra cosa non ho capito voi lo fate ma dai cos'è che sia tra di loro di su cos'è che dicevate così poi lo facciamo noi e per le gatti per le gatti ti tira il culo ti tira il culo così tanto allora sai cosa quando ti chiamano in trasmissione che sai che c'è l'Inter ha vinto lo scudetto stai a casina tua stai a casina tua fai la tua bella la light ti racconti le pattacate che continui a raccontare perché milanisti uno che dice qua ci vorrebbero un attore giovane promettente come Possanzini già mi viene il vomito qualche mese fa disse che il Milan doveva comprare in fase di mercato Diuricic oh sto te vuoi proprio fare un Milan di quelli stellari cioè come quelli reali stellari con Zidane Carlos Beckham tu te invece vuoi Diuricic Possanzini in panchina ma ci sei o ci fai ma ci sei o ci fai cioè è clamoroso cioè io capisco tutto ma arrabbiarsi perché adesso gli interisti vi sfottano no eh voi ditemi io lo sapevo Mastrangelo ha detto onestamente che lui non ci aveva neanche pensato a sta cosa dello scudetto in casa vostra io lo dico da due tre settimane e ci sono i miei video che confermono occhio che se succede smò è brutta come cosa occhio che se succede poi dopo la cagate questa cosa e adesso raccogliete quello che dovete raccogliere perché ripeto non è finita qui non è finita qui ci sfottò andranno avanti fino al prossimo anno ok finché non inizia la nuova stagione allora lì dopo siete salvi ma finché c'è l'estate il mercato e tutto ogni settimana io vi perculo tutte le settimane vi voglio ricordare tutte le sante settimane che voi avete perso lo scudetto nel derby e che avete perso sei derby a fila sei sei pelle gatti se non sai stare a gioco se non ti piace quello che fanno gli altri e sono sfottò ripeto una maglia con scritto e adesso chiamate slata ha fatto scoppiare il caos in studio ma tu pelle gatti ma veramente ma io mi meraviglio che ti seguo ma quelli che ti seguo perché ormai sei nella cioè sei uno di quelli che ti hai chiamato frisbee calabria frisbee calabria c'è intanto tu che gli hai dato quel nome frisbee calabria sei alla canna del gas anche te fidati di me te hai finito e ancora ti stai lì a raccontare patacate subattaccate subattaccate poi ho visto un giorno che uno ti ha detto ti ha detto anche in una live che penso che tu l'abbia pure querelato perché ti ha detto che te sei sempre a favore del Milan non sei mai critico qualche parola che pega che Milan che ti paga io questo non lo so mi dissocio da quella persona che ha detto questa cosa qui che sia ben chiaro questo qui però ha detto che te il Milan ti paga le trasferte e te anche lì anche lì che dovresti essere superiore perché ormai hai una certa età no te la sei no perché te adesso non puoi andare a dire certe falsità che il Milan mi paga la trasferta che il Milan io sono pagato dal Milan e quindi parlo solo bene ragazzi anche se non fosse così stai calmo che non sei nessuno sei solo lì un povero vecchietto che ha detto parlato ha parlato e leccato il culo per anni al Milan alla società Mila io non dico che lavori per il Milan però per noi che ti vediamo ti vediamo c'è il paraculo del Milan che sia ben chiaro non è che c'è da offendersi se qualcuno ti dice così è la verità è la verità mi dispiace quindi milanisti se non vi va chiudete i social chiudete tutto se non vi va a prendere perché noi interisti vi sfruttiamo finché era un inizio di campionato mi dispiace per le gatti ide togli il canale togli togli tutto se non ti va bene perché adesso che te la sei presa vedrai quanti ti verranno a prendere per il culo del tuo canale hai fatto il loro gioco pelle Luca la prossima volta che ti dice togli la maglietta e te vai cuneca cuneca buona serata belli ci vediamo domani per altri video ciao belli e mi raccomando piadena prosciotto figa portato trane per pelle gatti ciao